Una nuova polemica per il comune di Pescara. Questa volta a denunciare sono i cittadini che hanno assistito come protagonisti al caso. Nel corso di un evento organizzato il 5 gennaio scorso, che aveva come artista un jazzista di fama internazionale, Stefano Di Battista, presso il Palazzo dell'Aurum, gli spettatori si sono visti costretti ad uscire dalla struttura ad inizio concerto. Il motivo? L'orario. Il concerto era previsto per le ore 18 e invece, orario d'inizio, ore 20. Il custode è stato costretto ad interromperlo, mandando su tutte le furie gli spettatori e anche l'artista. La cosa ancora più grave è stato che quei cittadini avevano pagato un ingresso di 15 euro, che prevedeva degustazione di vini e prodotti, oltre alla presenza di produttori con spazi espositivi. Secondo gli accordi del Comune di Pescara, nulla di questo era stato dichiarato dagli organizzatori, contravenendo agli accordi presi con firma di entrambe le parti. Accusato dell'accaduto, l'assessore alla cultura ha chiarito responsabilità e questioni. Settimane fa abbiamo concordato con le organizzatrici le date di questo evento. Io ho concesso gratuitamente l'ARUM per l'altissimo livello della proposta musicale, quindi di battista. Abbiamo concordato invece che dalle 16 alle 20, che sono gli orari in cui noi normalmente diamo l'ARUM, abbiamo modificato fino alle 20 e 30, dando una mezz'ora in più, perché immaginando la grande partecipazione non volevo creare rigidità né disagi anche il defluire del pubblico. Ora queste persone sapevano perfettamente che a quell'ora l'ARUM dovrò chiudere. Avevano tempo e ore per organizzare e fare il concerto prima, nei tempi giusti, non andare a umiliare il jazzista facendolo suonare quando l'ARUM sta chiudendo. Purtroppo noi non possiamo più pagare gli straordinari ai dipendenti. E comunque ci vengono incontro rimanendo mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza in più, gratuitamente. Tra le questioni da chiarire è quello di avere o no il permesso legale di somministrare bevande e cibi. E anche quella di far pagare un biglietto d'ingresso. Procedimento che richiede documentazione e trafila amministrativa. I cittadini presenti all'evento chiedono sui social network di conoscere i responsabili della brutta figura fatta da parte di tutta la città di Pescara. Noi ci fidiamo quando facciamo un accordo con gli organizzatori. Il concerto iniziava ai 18, finiva alle 20, mezz'ora per defluire. Loro hanno violato questo accordo, creano un grandissimo disagio alle persone facendo fare una brutta figura a nostra città, dinanzi a queste partecipanti e a Di Battista. Quindi sicuramente non permetterò più che chi farò i simili dentro l'Auron possa avere una seconda volta la chance di avere quella bella struttura gratuitamente.